Buonasera, vediamo insieme i titoli di oggi. Nuovo intoppo per l'aeroporto Fellini. A meno di due settimane dalla riapertura, l'Enac ritira le chiavi e lascia fuori i dipendenti di Erriminum. Il presidente fincato, una situazione kafkiana. In quarta commissione consigliare è la relazione del garante dei detenuti sul carcere di Rimini, condizioni disumane e criticità persistenti. Monte Colombo e Montescudo verso la fusione, al via la prima fase dell'iter per il referendum, senza intoppi, nuovo comune già entro l'anno. Calcio prosegue la marcia trionfale del Rimini, battuto 2-0 il Mezzolara con doppietta di pera. Ben rientrate in studio. Nuovo intoppo dunque per l'aeroporto Fellini. A meno di due settimane dalla riapertura, il primo volo il 4 marzo, l'Enac regionale ritira le chiavi dello scalo e lascia fuori i dipendenti di Erriminum. E il presidente fincato parla di una situazione kafkiana. Vediamo. Non c'è pace per l'aeroporto Fellini. Il moderato ottimismo dei giorni scorsi, con l'annuncio della ripresa dei voli dal 4 marzo, vale a dire la prossima settimana, lascia spazio all'ennesimo intoppo che getta seri dubbi sulla riapertura, almeno prossima. Oggi ai dipendenti di Erriminum è stato impedito l'accesso agli uffici, che tra l'altro occupavano già da un paio di settimane dopo l'accordo col curatore fallimentare Santini. Le chiavi, spiega una nota della società, sono state richieste stamane dall'ex direttore di Eradria Trapani, su richiesta di Maria Concetta Laudato, direttore di Enac Emilia Romagna. A questo punto rischia di saltare l'incontro di mercoledì tra i vertici di Erriminum e i sindacati. Ammareggiata la presidente Fincato, che annunciando l'intenzione di rivolgersi al prefetto, parla di situazione kafkiana e spiega che difficilmente si potrà ragionare su scenari positivi, visto che si continua a sollevare le asticelle degli ostacoli. Ostacoli, dice, che forse qualcuno vuole rendere insuperabili a danno dell'economia di tutta la riviera. Tesi i rapporti con Enac, l'amministratore unico di Eriminum Corbucci ha inviato infatti al direttore generale 40 una richiesta di risarcimento danni. Nel mirino, tutti gli intoppi sorti sulla strada verso la riapertura del Fellini. Non ultimo, il Notam, emesso il 31 dicembre senza alcun avviso preventivo alla società, che fino al 13 giugno ha impedito l'accesso all'aeroporto al team di certificazione a causa dell'assicurazione scaduta. Tra i danni, anche gli stipendi che la società dovrà pagare, anche se ai suoi 14 dipendenti non è consentito in questi giorni di lavorare. Oggi pomeriggio, in quarta commissione consigliare, il garante dei detenuti che si è insediato a novembre ha relazionato sulle ispezioni svolte nel carcere di Rimini negli ultimi quattro mesi. Presenti l'assessore alle politiche sociali Gloria Lisi, i consiglieri e i rappresentanti delle realtà che operano nel sociale, dalla Caritas alla Papa Giovanni all'associazione Papillon. Diverse le criticità che persistono, soprattutto in una sezione nella quale i detenuti vivono in condizioni definite disumane. I servizi igienici, in una cella con cinque persone, sono accanto al fornello della cucina. Non è un caso che la prima sezione del carcere di Rimini venga chiamata Bronx. Il nuovo garante dei detenuti, Davide Grassi, che si è insediato a novembre, che ha effettuato quattro ispezioni, ha confermato le criticità. Sono rinchiusi in questo momento in delle celle che secondo noi non sono celle umane, se vogliamo dire così. Quindi c'è una serie di problematiche che potrebbero essere risolte se solo questa sezione venisse collaudata. E pare che ancora manchino i soldi per pagare la ditta appaltatrice. Attualmente il carcere di Rimini ospita 104 detenuti, di cui 50 stranieri. Nella sezione Andromeda, per i detenuti in attesa di misure alternative, ci sono tre persone a fronte di una capienza di 15. Un altro grande problema è la mancanza di un direttore in pianta stabile. Per ora è stato nominato un reggente fino ad agosto, che sarà però presente solo due volte a settimana. E poi ci sono le lungaggini della magistratura di sorveglianza nel concedere permessi premio ai detenuti. Saranno ispezionate anche le comunità di recupero presenti sul territorio. Una settimana fa è toccato a San Patrignano, che attualmente ospita 1300 persone. Ci tengo a ringraziare il Consiglio Comunale, che mi ha dato l'opportunità di rivestire questo ruolo e spero anche di poter dare loro delle soddisfazioni, perché è giusto che la nostra città abbia un carcere che funzioni. Lei si immaginava di trovare questa situazione nel carcere di Rimini? Ma no, sinceramente no. Non credevo che oggi ci sia ancora una struttura di questo tipo che necessita di tanti lavori di manutenzione e di ristrutturazione. Conosce l'uomo dei suoi sogni su un social network per single, ma dopo avergli prestato 41 mila euro si rende conto di essere stata sedotta, imbrogliata e abbandonata. La donna, una trentenne di origini francesi, si è rivolta ai carabinieri che hanno rintracciato e denunciato a piede libero un trentenne residente nel Riminese. La frequentazione tra i due era durata per più di un anno e con la scusa di un prestito per avviare una palestra l'uomo si era fatto dare 6 mila euro in contanti e poi 35 mila euro in assegni. Per 55 centesimi l'Inps ha negato ad un idraulico riminese il DURC che è il documento unico per la regolarità contributiva dell'azienda. L'artigiano doveva lavorare su un cantiere ma l'Inps per un mancato versamento di contributi pari a 37 centesimi nega per mail il documento e il lavoro rischia di saltare. Il protagonista di questa vicenda pubblicata oggi sul resto del Carlino è rilanciata dall'Ansa, un artigiano che ha subito saldato l'arretrato per non perdere il lavoro ma ha voluto segnalare il disguido che per una cifra irrisoria rischiava di costare all'azienda molto di più. Un anno e mezzo fa l'Inps riminese finì sulla ribalta delle cronache per le polemiche che fecero seguito alla richiesta di un euro nei confronti di un pensionato riminese. Vicenda a seguito della quale il direttore della sede Inps di Rimini si dimise. Il maltempo dello scorso 6 febbraio ha provocato una frana all'esterno dell'ingresso basso delle grotte di Unferno che ha portato via Cancello, Corrimano e ultimo tratto del sentiero. Per il ripristino è necessario un intervento con mezzi pesanti. Il sindaco di Gemmano Rizziero Santi si è rivolto direttamente alla regione, alla provincia e all'ente regionale macroarea che ne ha in carico la gestione. Domani mattina ci sarà un primo sopralluogo con i tecnici del territorio mentre per la settimana prossima è previsto un nuovo sopralluogo con i tecnici della regione. In attesa di una valutazione del tipo e del costo dell'intervento da eseguire Santi chiede che siano stanziati i fondi per l'intervento di ripristino dell'ingresso in regime di urgenza per mettere in sicurezza l'area e confermare l'apertura delle grotte che non sono state interessate dalla frana ad inizio maggio come da programma. E' arrivata oggi l'ufficialità della nomina di Marcello Tonini a direttore dell'ASL Romagna. L'ex direttore dell'ASL di Rimini, passato poi alla guida dell'IRST di Meldola, prende il posto di Andrea De Dorid. La nomina dei nuovi direttori delle aziende sanitarie regionali, 14 in tutto, 5 le donne, era uno degli obiettivi dei primi 100 giorni per il presidente Stefano Bonaccini. Soddisfazione per la nomina di Tonini arriva dall'assessore regionale a bilancio Emma Petitti e dal sindaco Gnassi che auspica anche che il progetto di area vasta nella sanità diventi sempre più patrimonio comune dell'Emilia Romagna e non limitato alla fascia romagnola. Altri due comuni riminesi, questa volta in Valconca, intraprendono il cammino verso la fusione. Sono Monte Colombo e Montescudo che sono nella prima fase, quella di informazione ai cittadini in vista del referendum. Ma se il percorso procederà come nelle intenzioni degli amministratori, già entro l'anno potrebbe nascere il nuovo comune. Dal 2010 la legge impone ai comuni sotto i 5.000 abitanti di scegliere tra convenzione, unione o fusione per ottimizzare costi e risorse. Monte Scudo e Monte Colombo hanno scelto la via della fusione, la scelta più forte ma anche quella che offre i maggiori vantaggi, come hanno confermato agli amministratori dei due comuni, quelli di Poggio Torriana, il primo comune riminese nato da una fusione. I benefici sono notevoli sia da un punto di vista economico, perché ci sono dei contributi che vengono erogati da parte dello Stato per dieci anni successivi, sia da parte della regione che eroga un contributo straordinario per tre anni, un contributo ordinario per quindici anni, ma anche la possibilità ad esempio di essere esonerati dal patto di stabilità per cinque anni, che è una cosa importantissima, perché comunque i comuni che hanno il patto di stabilità poi non hanno possibilità di muoversi diversamente. Inoltre ci sono anche dei vantaggi legati al fatto che due comuni così vicini e che si sentono comunque tra virgolette amici, perché noi abbiamo un sacco di cose in comune come comuni, andando a realizzare determinate cose insieme, possono realizzarle meglio a vantaggio ovviamente della popolazione dei cittadini. Gli incontri nelle frazioni proseguono a ritmo sostenuto, cinque solo questa settimana, anche perché i tempi sono stretti. Il 9 marzo il passaggio in Consiglio Comunale, per ottenere poi dalla regione la legge sulla fusione, a ottobre un referendum e se vincerà il sì. A maggio 2016 il voto per l'amministrazione del nuovo comune sulle ipotesi di nome ancora niente di ufficiale. Il campanilismo in realtà c'è sempre e rimarrà sempre, perché tutti lo siamo un pochino, però secondo me i tempi sono maturi per fare un passaggio ulteriore. E le persone sì, sono mature, perché comunque anche loro capiscono che i tempi sono pronti. Quindi l'impressione generale è quella di avere capito che abbiamo intrapreso un progetto che sarà storico, poi per i nostri due comuni, ma che comunque è indispensabile. Si è concluso sabato scorso con la premiazione del progetto vincitore, la tredicesima edizione di Scuola Cooperazione Lavoro, esperienze di creazione di impresa, promosso dalla Banca di Credito Cooperativo Romagna Est, IRECOP e Conf Cooperative di Rimini e Forlì Cesena. Un momento importante per 150 studenti di sei istituti tecnici tra Rimini e Cesena, ma anche di riflessione in un momento di crisi economica dove il modello delle cooperative sembra ancora tenere. Il mondo delle cooperative, conoscerlo e attuarlo, gli studenti di sei scuole superiori si sono messi in gioco per creare dal nulla una cooperativa spendibile sul mercato oggi e aiutati da tutore ed esperti hanno creato una loro impresa. Dall'agriturismo in spiaggia al benessere, dal drone defibrillatore all'edilizia, fino ai prodotti tipici locali, come la cooperativa Romagna, presentata dall'Istituto Molari di Sant'Arcangelo, che si è aggiudicata il primo premio. Un'opportunità per i ragazzi per capire come realizzare un'impresa cooperativa che valorizza il lavoro del gruppo in una logica non di pura competizione o basata sul capitale. Lo sviluppo dell'idea cooperativa credo sia un patrimonio che i ragazzi porteranno con loro per tanto tempo e ci auguriamo anche per un'attività lavorativa. Siamo in un periodo di difficoltà, in un periodo nel quale la cooperazione, se si stringe assieme, riesce a fare delle cose molto belle. Questo è il messaggio che abbiamo voluto dare ai ragazzi. Se è vero che la cooperazione nel 2013, ricordo questo dato, a livello nazionale è stata l'organizzazione che ha raggiunto un segno più sette nell'occupazione, quando tutti gli altri settori viceversa segnavano un meno. Una crisi che ha colpito tante aziende in vari settori, edilizia compresa, la cooperativa in anni di difficoltà economiche spesso è stata d'aiuto per guardare nuovamente al futuro. Noi siamo ripartiti da un'impresa in crisi, quindi abbiamo ricreato una nuova impresa cooperativa nel 2012, pensando che gli anni più difficili fossero finiti e ancora ad oggi non è che vediamo delle grosse prospettive. Però in effetti il mondo cooperativo permette questa associazione fra soci un po' più stimolati, un po' più stimolante nel fare qualcosa sempre in crescita. Oltre 2000 persone ieri hanno partecipato a Rissuona Rimini, l'evento promosso dai gruppi musicali riminesi all'interno di Castel Sismondo. Il ricavato della giornata sarà destinato all'associazione Il Sicomoro di Villa Verucchio. Castel Sismondo preso d'assalto ieri, ma nessun armigero a difenderlo. Anzi, più di 2000 persone hanno varcato il portone d'ingresso per Rissuona Rimini, misura distanza, l'evento dedicato all'arte e alla creatività. Una settantina agli artisti partecipanti, tra musicisti, espositori, pittori, fotografi, ballerini. Un afflusso oltre le aspettative che in qualche situazione ha anche causato piccoli problemi logistici. I laboratori per bambini, curati dalla piccola piazza d'arti della comunità Papa Giovanni XXIII, hanno dovuto raddoppiare i turni per soddisfare la richiesta di partecipazione. Su due palchi si sono tenuti set musicali e jam session in interrotte dal pomeriggio a tarda sera. Ogni stanza del castello risuonava di ritmi e generi musicali diversi, in un'atmosfera davvero suggestiva. Dal sound più folk dei Nashville & Backbones e Luca Casali, al cantautorato di Riccardo Amadei, Francesco Mussoni, Sergio Casabianca, Laura Benvenuti e Giuseppe Novelli, al rock dei Miami & The Groovers e dei Direzione. E risuona Rimini Farima anche con solidarietà. I fondi, raccolti grazie alla generosità dei partecipanti, l'ingresso era d'offerta libera, sono andati all'associazione Sicomoro, che gestisce una casa di accoglienza a Verucchio, dove la musica viene utilizzata come terapia per bambini e ragazzi con disagio. E siamo arrivati al calcio, è un campionato sempre più nel segno del Rimini e di Manuel Pera. Il bomber bianco-rosso contro il Mezzolara entra a mezz'ora dalla fine, marchia a fuoco il match con una doppietta e raggiunge Davide Di Nicola come miglior marcatore stagionale di sempre. Nel finale c'è gloria anche Perdini, che para un rigore e mantiene inviolata la propria porta per la settima partita di fila. Le inseguitrici tentennano e il Rimini allunga in vetta. Vediamo il servizio. Il Rimini ospita il Romeo Nero in Mezzolara, ricordando il match d'andata, finito 3-1 per i ragazzi allora allenati da Luppi. Una sconfitta che fece scattare la contestazione dei tifosi al seguito. Cari deve rinunciare allo scurificato cabine, e agli acciaccati Barasso e Tedesco. Ricchiuti e Pera partono dalla panchina. La cronaca, all'ottavo Brecca di Torelli, che recupera palla, triangola con Berardi, e serve Nera Paganelli, che al momento del tiro viene stoppato da Martelli. Al quattordicesimo Di Maio in avanti per Dideo, che di testa mette in moto Paganelli, chiuso questa volta dalla coppia Orlando-Martelli, proteste biancorosse per un intervento falloso che l'arbitro non vede. Al ventesimo punizione dalla metà campo di sette passi, ma Cagno non riesce a capitalizzare il ponte di Bazzani. Intanto la curva est continua la sua battaglia per la curva vicino al campo. Alla mezz'ora, gran diegonale di Semprini. Dini chiede aiuto al palo. Irrompe Bazzani, che non trova la porta. La ripresa inizia con un'imbeccata di De Martino per Masini, anticipato dall'uscita di Conti, che sciega bene il tempo. Al nono, bordata da fuori area di Torelli, Conti risponde con una mano. Portiere ospite protagonista anche un giro di lancette dopo, quando chiude bene lo specchio Berardi, imbeccato in corsa da Masini. Al sedicesimo è l'accambio che deciderà la partita. Fuori di Deo, dentro Pera. Due minuti dopo la punizione del neontrato, coglie in pieno la traversa. Di Maio di testa da due passi, anticipa Masini fallendo il tapin. Al ventitresimo è la rimini passa. Rimessa da sinistra di Di Nicola. Traversone basso di Masini, Pera si gira e sfodera il diagonale, sul quale Conti si allunga in ritardo. Gol numero 23 in stagione per il bomberissimo bianco-rosso, 1-0. Al minuto 38 il rimini raddoppia. Calori calce in avanti. Orlando fallisce il controllo. Pera si avventa sul pallone, salta anche Conti in uscita disperata e deposita in fondo al sacco, il suo gol numero 24, eguagliando il record di marcatura in una stagione di Davide Di Nicola. Al 44esimo, l'ex bianco-rosso Signorini, alla prima d'avversario al neri, vince il duello di forza con Di Nicola. Poi un rimpallo con Spinosa e finisce a terra in aria sul ritorno del terzino sinistro, Rigore. Sul dischetto si presenta Marinai, che si fa incantare da Dini, che respinge il tiro, preservando la sua porta per la settima partita di fila. Finisce 2-0 per il Rimini, che infila la settima vittoria consecutiva di un 2015 da incorniciare, il dodicesimo urrà in sequenza al Romeo Neri. E complice la sconfitta della Correggese con l'Abano ed il pareggio dell'Est a Scandicci, allunga ulteriormente in classifica, più 13 su entrambe. E di Rimini e delle altre squadre del nostro territorio si parlerà questa sera su Icaro TV Radio Icaro come di consueto nel corso della nostra trasmissione Calcio.Basket in diretta dalle 19.40. Ospiti in studio poi dalle 21.10 il centrocampista del Rimini, Guido Dideo, e il collaboratore tecnico del Sant'Arcangelo, Luigi Bizzotto. Era l'ultima notizia per noi, vi ricordo domani mattina l'appuntamento con la rassegna stampa locale alle 7.30. Vi ricordo anche il nostro sito di informazione newsrimini.it, le frequenze di Radio Icaro, ovviamente i nostri notiziari alle 19.15.20.15 sul canale 91. Grazie dell'attenzione. Dalla redazione, buona serata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.